Il progetto del patentino digitale è stato voluto ed organizzato dal Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise, che ha voluto destinare ai giovani studenti la migliore formazione perché possano giungere ad un uso consapevole del web e dei social. Il percorso è iniziato da Baranello, ma continuerà Larino, Riccia, Campodipietra e Ferrazzano. Entriamo per la prima volta nelle scuole e portiamo un progetto che è un progetto pilota di un percorso sperimentale molto più ampio. Vogliamo essere vicini a questa età particolare dell'adolescenza, non vogliamo sostituirci a nessuno, non vogliamo sostituirci né alle scuole né all'insegnante né alle famiglie, vogliamo però aggiungerci, aggiungerci con la nostra professionalità. Abbiamo organizzato queste cinque giornate formative, rilasceremo alla fine un patentino, un attestato di patentino digitale e ci sarà la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti del Molise e dell'Ordine degli Avvocati del Comune di Campobasso. Quest'età ha una intelligenza, una logicità particolare, siamo riusciti a tenerli per circa tre ore, abbiamo mostrato un cortometraggio molto importante, significativo, prodotto con la collaborazione del Ministero degli Interni e del Ministero dell'Istruzione e quindi sono molto contento. Noi ci abbiamo messo passione, i ragazzi hanno risposto benissimo e questo è sintomatico di un'attenzione a questa problematica molto molto alta. Il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento a Larino, 11 gennaio, altra bella realtà, questi cinque comuni abbracciano territori geografici diversi, anche questo è bello, in ogni territorio andiamo a scoprire le loro scuole, andiamo a conoscere questi ragazzi e quindi adesso l'attenzione è alta, anche i mass media hanno risposto bene alla presentazione e alla visibilità di questo progetto, quindi prossimo appuntamento a tutti, 11 gennaio a Larino.